Toscana riparte da Giovanni Fittante, il capogruppo del partito è un brazzo vecchio e il nuovo segretario regionale. Il congresso che si è svolto a Firenze lo ha eletto con poco più del 58% dei voti e appena il risultato è stato ufficializzato il primo a congratularsi con Fittante è stato proprio lo studente, il fratese Salvo Arnica, il segnale di un partito che dopo la debattra delle elezioni politiche vuole ripartire dall'unità, l'obiettivo a cui puntare le elezioni europee e amministrative della prossima primavera.